Salve a tutti amici, in questo video vediamo come risincronizzare l'audio con il video utilizzando il lettore multimediale VLC. Allora, cosa intendo per risincronizzare? Può succedere che il video e l'audio non siano ben sincronizzati, ovvero vedete che c'è un ritardo o un anticipo rispetto al labiale del personaggio che, non so, state interpretando in un video, oppure un filmato, eccetera, eccetera. Allora, che cosa possiamo fare? Ho preso qua un mio video, questa è una modifica, attenzione, in locale, quindi non è una modifica da montaggio video, una volta effettuata, chiuso e riaperto il video, tale video riavrà di nuovo il solito problema. Come agire? Allora, andiamo in strumenti, ovviamente prima apriamo il filmato in questione, strumenti, effetti e filtri, e andiamo alla voce sincronizzazione. Ecco qua, di base troverete 0,000, quindi sincronizzazione, traccia audio in secondi è 0. Adesso possiamo aumentare per ritardare l'audio o possiamo diminuire per accelerare l'audio, quindi siamo in anticipo. Fate queste modifiche utilizzando i valori, anche scrivendoli se è necessario, se volete essere precisi al millisecondo e poi usate il play. Con i vari antivirus aggiornati e antispyware, se volete qualche consiglio io... Vedete che adesso ho ritardato l'audio, uso principale... Adesso lo riporto a 0 per farvi vedere che in tempo reale è possibile effettuare queste modifiche, in modo da fare questi aggiustamenti millimetrici prima di fare i chiudi. E malwarebytes anti-malware per tenere pulito il computer, vedete, si è già risincronizzato. In questo caso ovviamente il mio audio era già a posto, quindi sto facendo una prova giusto per farvi vedere come funziona, qua era già a posto. Quindi muovetevi con il selettore giù o su per aggiustare l'audio, quindi se è ritardato accelerarlo, se è accelerato allora ritardarlo. Di solito la sincronizzazione errata, erronea, diciamo così, è di qualche millisecondo, di un secondo, è raro che sia di più. Quindi fate piccoli aggiustamenti, non provate valori troppo alti perché di solito non è mai così. Alla fine farete chiudi e poi tornate a fare play. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti.